Sì, guardi, ci è arrivata poco fa la notizia della sua scomparsa e ne ho provato davvero dolore. La sua è stata una figura straordinaria che gli storici del futuro riconosceranno come una grande protagonista della nostra era. Io sto scrivendo una mia dichiarazione al riguardo, ma voglio dire che davvero il nome di Elisabetta ha rappresentato un grande simbolo della democrazia e della libertà nel secolo che abbiamo alle spalle. Ha attraversato davvero con estrema dignità la storia contemporanea. Ricordo davvero con emozione gli incontri che ho avuto con lei, che aveva una straordinaria autorevolezza, univa l'autorevolezza a un grande garbo e univa una viva simpatia a un sorprendente di questo senso dell'umore.